Buonasera e benvenuti al quarto appuntamento di Redazione Finanza. Redazione Finanza che cos'è? Sono delle serate di approfondimento economico finanziario che il giornale L'inchiesta realizza con Manefarm. Questa sera il titolo dell'evento è Fisco Inferno, mi rendo conto che non è un titolo particolarmente accattivante, ma probabilmente non poteva esserci un momento storico migliore per parlare della tenuta fiscale italiana in un momento storico in cui nell'agenda pubblica sono ricomparse parole come spread, debito pubblico, flat tax, ecc. E parleremo dell'inferno fiscale italiano con il professore Michele Boldrin, che è economista, professore alla Washington University in St. Louis, e con Paolo Galvani, che è presidente di Manefarm. Prima di entrare nel vivo della discussione ringraziamo chi ci ospita, Club House Brera, e ringraziamo Manefarm che dà l'opportunità di organizzare questi eventi di approfondimento in un paese che di certo non spicca per educazione finanziaria. Dicevamo, la situazione di incertezza politica sicuramente ha riportato in auge la questione della tenuta fiscale italiana. In questi giorni si parla molto di debito pubblico, dei rischi legati al debito pubblico e tutto quello che può comportare sulla pressione fiscale sugli individui e sulle imprese. Il giorno dopo il giuramento del nuovo governo abbiamo festeggiato il Tax Freedom Day, che è il giorno, secondo alcuni calcoli, in cui cominciamo a guadagnare e finiamo di pagare le tasse. È stato quindi un giorno della festa della Repubblica particolare quest'anno. Per cui entrerei direttamente a gamba tesa sull'attualità, facendo intervenire il professore Boldrin su quello che è in merito di fisco e contenuto nel famoso contratto di governo Lega 5 Stelle. Possiamo chiederle un parere e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci? Oddio. Allora, lei sa meglio di me che nel contratto cosiddetto in merito di fisco non c'è nulla di specifico, tanto che purtroppo, io dico purtroppo perché per quanto io abbia ovviamente scarsa fiducia e apprezzamento di questo governo, non credo sia bello che il governo di un paese alla fine grande venga sbeffeggiato continuamente perché i suoi esponenti dicono cose improbabili dal giorno numero uno. Tutti si stanno divertendo appunto a giocare su questa cosa, le flat tax una al giorno, poi vanno su, fanno giù questo che se ne esce il senatore pescarese a dire beh quest'anno facciamo la flat tax per il 19 sulle imprese che c'è già. Poi ci penseremo nel 2020. Non è molto chiaro, quindi io e volendo evitare per rispetto al pubblico di mettermi a far battute, che insomma ce ne sono già abbondanzamente sui social, preferisco parlare di quello che non c'è perché francamente non c'è nulla. Cioè c'è l'uso di questa parola flat tax, se vuole partiamo da lì. Cioè c'è una proposta flat tax su cui ho mezzi dubbi, l'ho anche dibattuta con il suo autore principale che è Dario Stevanato, un professore di diritto tributario a Trieste, è molto capace. Lui ha provato a elaborare una proposta di flat tax che è quella fatta proprio all'istituto Bruno Leoni eccetera eccetera. Mi sembra che questo governo di quella proposta abbia preso il nome ma non la sostanza. Anche perché poi fuori di ogni dubbio, al di là di come lo calibri, la flat tax se vuole dire quella cosa, tecnicamente vuol dire, molti scherzano un po' troppo sul fatto che dovrebbe essere un aliquota sola, va benissimo se sono due, adesso non prendiamoci in giro, tra averne 16 o 14, averne due c'è una grandissima differenza. Ovviamente dipende da dove le metti perché puoi tranquillamente mettere entrambe a 64,3 e una 68 e non c'è nessun problema. Quindi il problema del renderle flat è perché nella crescita della marginalità vi sono svariati argomenti sia di teoria economica sia di dati che suggeriscono che l'eccessiva progressività, non nel senso che sia alta ma nel senso che cambia con troppa frequenza, crea distorsioni, crea questi incentivi a evitare di entrare nello scaglione di reddito seguente perché all'improvviso ti va sui tre punti e non ti conviene, insomma crea tutta una serie di comportamenti anomali oltre che fatiche e proprio costi, sprechi di tempo nel fare la propria dichiarazione di reddito e poi per chi ha lavoro di impresa nel gestirla e nel fare i bilanci che non vale la pena, tanto vale che tu tassi il 25, il 22, il 20% un blocco e l'altro il 30. I numeri che sto facendo sono del tutto pedagogici, non intendono essere suggerimenti a nessuno. Quindi punto numero uno per l'idea di diminuire il numero di aliquide e rendere il meccanismo il più flat possibile, l'argomento è questo, è solo questo. C'è un argomento del tutto dubbioso che nemmeno Dario e l'IBL adotta e che purtroppo ho visto questo governo adottare, che è la cosiddetta Luffer Curve, che è purtroppo una bagianata diciamocelo, non è la prima volta che lo dico, lo diciamo da una vita, Luffer è un signore di cui nell'ambiente economico americano si ride. La Luffer Curve è questa vaga affermazione per cui se riduci le imposte, nel senso della percentuale di tassazione sui redditi, questo crea un incentivo tale all'offerta di lavoro e alla produzione, perché in tasca il margine ti rimane di più, che il reddito cresce, il reddito è tassabile e la crescita del reddito, siccome il gettito è il prodotto dell'aliquota media e della base imponibile, io proprio su questo stasera dirò, io vi avviso, rischio di sbagliare tutte le parole, perché ho scarsa pratica del linguaggio tecnico in italiano, quindi mi scuso subito. Base imponibile, se la base imponibile va su in percentuale più di quanto l'imposta vada giù, il gettito totale cresce, giusto? Questa è la magia di Luffer, la cosa è a priori vera, perché? Perché se tasso 0% ho 0 tasse, se tasso 100% ovviamente nessuno lavora, quindi ho 0 gettito, siccome la curva che poi passa in mezzo deve andare su e poi giù, a un certo punto andrà giù, però tutto quello che sappiamo è che probabilmente dai dati osservati comincia ad andare giù quando arrivi a tassazioni vicine al 70-75% e noi ne siamo ben lontani, infatti il tentativo, così chiamiamolo reganiano all'inizio degli anni 80 di avere un miracolo del genere degli Stati Uniti non ha funzionato, è in ogni altro paese normale o seminormale come l'Italia, dove si sia utilizzato non c'è, quindi l'idea che il problema nostro del gettito fiscale possa provenire da una riduzione delle aliquote è meglio gettarla alle ortiche. Quello che invece è vero è che l'Italia ha un sistema di tassazione particolarmente punitivo, particolarmente punitivo, ma questo lo sappiamo tutti, adesso comincio a dire banalità che tutti sanno, particolarmente punitivo sui certi tipi di reddito, i redditi del lavoro del settore privato, quelli in particolare di quella parte del settore privato più produttivo perché è emerso, quindi imprese tecnologie avanzate, imprese medio grandi, qui dico cose banali, quindi certo c'è un bisogno sostanziale di lavoro lì, non mi pare che ci sia nulla dentro al cosiddetto contratto in questo, c'è abbastanza nella proposta Stevanato-IBL che credo sia perfettibile e soprattutto poi c'è l'altro pezzo. Comunque vada anche la proposta da Stevanato-IBL che è una proposta seria, crea una grossa riduzione, non ci sono santi, crea una riduzione del getto, di questo ne abbiamo dibattuto a lungo proprio in marzo con Dario in un incontro nel Vicentino che trovate da qualche parte e quindi in realtà non c'è maniera di discutere di riduzione complessiva del carico fiscale in Italia se non si discute di riduzione della spesa perché altrimenti l'unica soluzione che trovi è che crei un buco di bilancio di 2-3 punti percentuali e lo rendi strutturale perché non è un buco di bilancio che ti viene perché c'hai la crisi, perché devi spendere 50 miliardi in più o 10 miliardi in più o 7 miliardi in più per i sussidi di disoccupazione o quel che è, no, ce l'hai per sempre, giusto? se non avviene in una situazione particolare ma è una decisione di una riforma permanente tu dici io adesso creo immediatamente un buco di bilancio che so di 40 miliardi e questo ovviamente ti crea ovvie frizioni sul debito, ho parlato troppo e mi fermo. Prima di entrare nel dettaglio diciamo di quello che manca e quindi fornire una ricetta per migliorare questo inferno fiscale vorrei ritornare proprio sull'attualità con Paolo Galvani di Money Farm a proposito di quello che esiste nel contratto di governo in termini di innovazione, in termini di investimenti nell'innovazione anche lo stesso Premier Conte nel suo discorso al Senato ieri ha fatto appunto ha parlato di internet, ha parlato di innovazione di digitale, nel contratto si parla proprio della necessità di investimenti nella fornitura di servizi e prodotti finanziari, che cosa vi aspettate dal punto di vista di una società come Money Farm e cosa ne pensa di questi contenuti che mi rendo conto siano anche questi molto generici? Beh, voglio dire, avendo costruito e lavorando un progetto come quello di Money Farm che si basa per l'appunto su tecnologia, servizi finanziari e efficienza, non posso che trovarmi completamente. Il problema come sempre poi è come questa cosa si trasforma da un enunciato ad una vera volontà di trasformazione di un sistema che in Italia fa un po' fatica ad accettare il cambiamento ancora più sul mondo dei servizi finanziari, cioè noi facciamo parte di questo più ampio movimento, ne abbiamo parlato in altre situazioni, del fintech così chiamato, ovvero sia di come la tecnologia in qualche modo sta reinterpretando il mondo dei servizi finanziari e lo sta reinterpretando, reinterpretare è una parola gentile insomma, in tanti casi lo sta proprio stravolgendo, lo sta ripensando nel profondo e così come tutta la, se ci pensate negli ambiti, insomma in altre industrie la tecnologia è arrivata a velocità più o meno forti, cambiando completamente i paradigmi, questo sta succedendo anche nei servizi finanziari. Nei servizi finanziari ci sta mettendo un po' di più perché in realtà sono passati ormai più di dieci anni e stiamo incominciando adesso a vedere dei veri e propri stravolgimenti, se ci pensate è il mondo dei servizi di pagamento, quelli che stanno incominciando ad avere veramente il maggiore impatto su questa cosa, la semplicità con cui si può pagare adesso su un cellulare, finalmente la velocità di adozione di tutta una serie di carte per pagare, la scomparsa del cash in alcune aree più, in alcune meno, però insomma dal pagamento si passa poi agli investimenti, si passa ai prestiti, si passa alla banca come concetto e tutto questo sta avvenendo, sta avvenendo a livello di sistema, ci sono paesi che stanno correndo tantissimo, ci sono paesi che corrono di meno, noi come paesi ci siamo diciamo svegliati un po' in ritardo su questa roba, per una serie di motivi direi, abbiamo un modello che in Italia è fortemente bancocentrico, dove insomma la banca rappresenta ancora un centro di competenze molto eterogeneo e che offre veramente tanti servizi e dove il cliente un po' per cultura, un po' per abitudine fa fatica a immaginare quale può essere l'alternativa all'andare in banca. La tecnologia si propone proprio invece di offrire delle alternative a quello che è il modello tradizionale, vuoi che sia un sistema di prestito o vuoi che sia un modello di investimento. Quindi cosa fa, scusate, perché è così importante? Beh è così importante perché attraverso la tecnologia tu riesci a costruire modelli che ti permettono di essere più trasparente, di essere più diretto, di costare di meno e di fatto di andare a risolvere dei problemi in maniera più puntuale guardando più dal lato del cliente che non dal lato di chi offre il servizio. Scusate se l'avrò sicuramente fatto l'esempio altre volte in queste situazioni, però insomma se pensate a quello che è successo nel mondo dei viaggi con le agenzie del turismo dove tu dovevi andare a comprare un biglietto, pagavi la commissione, ti davano due viaggi, dovevi scegliere uno o l'altro e quella era la soluzione, oggi vai online, metti quello che vuoi, compili i campi, ti costa probabilmente un terzo, un quarto, hai lavorato un pochino più tu ma hai personalizzato di molto quello che cercavi e hai speso molto meno. Ecco, applicate questo paradigma al mondo dei servizi finanziari e capite quanto può essere stravolgente un approccio tecnologico, ovvero sia un maggiore coinvolgimento delle persone diretta attraverso delle piattaforme che ti offrono soluzioni personalizzate che costano di meno e che in qualche modo ti permettono di interagire velocemente. Quindi, è evidente che stiamo andando in questa direzione e aggiungere una cosa, è evidente a prescindere dal fatto che il Presidente del Consiglio dica che lo vogliamo fare, benissimo che lo vogliamo fare, ma anche se non lo volessimo fare succederà. Il problema è cercare di farlo noi e di non fare in modo che, perché questo è l'altro aspetto interessante della tecnologia, e di non fare in modo che ci sia qualcun altro che arriva da un altro posto e lentamente, voglio dire, occupa degli spazi che poi non è nemmeno un problema, è una sana competizione, quindi non lo vedo come un problema, ma farebbe piacere che un paese come l'Italia potesse giocarsela, insomma, su questo spazio. Quindi, che il cambiamento avvenga e che la tecnologia arriverà attraverso innovazione, attraverso servizi nuovi, è un dato di fatto. Che noi ci siamo mossi un po' lentamente fino adesso è anche un dato di fatto. Ci sono stati dei segnali, a dire la verità, direi positivi, ve ne dico uno, che può sembrare strano, però gli organi di vigilanza che, voglio dire, tanto hanno, come dire, in questi ultimi due o tre anni sono stati tanti sui giornali per tanti motivi. Beh, devo dire che sul lato dell'innovazione, nell'ultimo anno o due, hanno capito l'importanza della portata del cambiamento e devo dire che si è creato un dialogo... Faccio io la domanda, perché non conosco... Cosa c'è di una legislazione e regolazione italiana che impedisce innovazione, artificial intelligence e cose del genere nel mercato italiano? Perché c'è qualcosa in particolare? No, no. Quindi il governo non c'è tra niente? In termini di regolamento, di regoletto? O ci sono regole e pezzi di legislazione che rendano improbabile o più difficile, se non impossibile, l'entrata di questo, di quello, l'aduzione di questo, di quell'altra tecnologia, oppure il governo non c'è tra niente. Sono parole al vento. No, ti spiego. Ad esempio, vi faccio l'esempio sui regoletto, no? Cioè, quando noi siamo partiti con Money Farm, abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per poter operare. Allora, qui in Italia, perché noi siamo partiti dall'Italia, in realtà, all'inizio di questo movimento, quando tu andravi in Banca d'Italia, che tu fossi Banca Intesa o che tu fossi Money Farm, il trattamento non era molto diverso, tant'è che noi ci abbiamo messo 11 mesi per avere l'autorizzazione. Cosa vuol dire? Che noi per 11 mesi non abbiamo potuto nemmeno testarlo il prodotto, non abbiamo potuto fare nulla nell'attesa di avere un'autorizzazione per poter partire. Allora, voi capite che, ad esempio, anche solo questo, cioè anche il fatto che tu hai un blocco all'entrata normativo e di processo, uccide un sacco di aziende che non hanno il tempo, la forza, la cassa, per poter incominciare a testare dei progetti che potrebbero essere utili. Esempio alternativo adottato dall'Inghilterra. Inghilterra ha costruito una cosa che si chiama Sandbox, che è la buca della sabbia, dove le aziende nuove, che potrebbero essere interessanti, potrebbero costruire cose nuove, facciamo che le mettiamo in questa buca della sabbia, gli diamo un occhio, le regolantiamo in maniera un pochino più soft, così da un lato vediamo come si muovono, dall'altro impariamo cosa fanno, e se poi scalano, le andiamo e le mettiamo. Ecco, allora questo è uno dei tanti temi su cui il regulator può impattare, non è banale, perché poi il lavoro del regulator è comunque poi fare in modo che il mercato rimanga solido e non prenda facciate in altre situazioni. Però insomma, ecco, questo è uno dei pochi segnali che negli ultimi 1-2 anni, e la Consom ne parla sempre più spesso, e Banca d'Italia ne parla sempre più spesso, e vedrete sempre di più questi argomenti. Qui c'è un problema di, come dire, snellimento? C'è un norme specifico o semplicemente che Banca d'Italia ci mette 11 mesi dove poter metterlo? No, è un problema di approccio, è un problema di quello che sta cambiando, è un problema di laddove fino a qualche anno fa tutto quello che non era parte di un sistema molto strutturato o era visto con grande sospetto, o non era neanche facilmente interpretabile. Oggi c'è una maggiore apertura a cercare di capire come può cambiare il mondo. Ma te ne dico un'altra, probabilmente la quantità di ingegneri che devono esserci in Consom oggi, rispetto a quello... No, dieci anni fa un ingegnere in Consom il lavoro non lo trovava, ma oggi erano tutti avvocati. Adesso magari una riflessione sul peso degli ingegneri e degli informatici verso gli avvocati sta cadendo. Perché è proprio un altro lavoro, come fai a valutare il peso della tecnologia all'interno di un contesto normato? Perché quello poi è l'altro problema. Noi non vendiamo scarpe, facciamo consulenza finanziaria, quindi è delicato. Io vado a dare un consiglio a una persona sulla base di tutta una serie di aspetti regolamentari importanti, aggiungerei. Quindi, giusto per capire, in Inghilterra non c'è proprio un periodo di attesa? In Inghilterra, diciamo che, per tutta una serie di motivi che vanno sia da come è strutturato l'organo di vigilanza all'approccio molto business che c'è, aggiungerei anche un tema di preservare il mercato finanziario alla luce di tutto quello che sta succedendo. Nel rischio che va d'altrove. Nel rischio che va d'altrove. Proprio in generale l'organo di vigilanza è molto più propenso e ha come statuto il miglior trattamento possibile per i risparmiatori e gli investitori. Quindi questo concetto di aiutare l'innovazione è molto forte e si declina in tanti modi. Sono stati i primi, hanno un po' guidato, gli altri sono un po' mossi in scia e devo dire che da quel punto di vista noi ci siamo mossi abbastanza in scia con gli altri paesi. Insomma, c'è nessun altro che ci ha superato. Ci sono altre cose su cui facciamo più fatica parlando di innovazione, di capitali. Però adesso fermiamoci qua perché sennò anche io parlo troppo. Parleremo dopo. Ora, nonostante le promesse di investire nell'innovazione, di cambio del sistema fiscale italiano, nonostante dopo 90 giorni di attesa siamo arrivati alla formazione di un governo, restiamo comunque degli osservati speciali. Lo spread resta alto. Mi rivolgo al professore Boldrin. Che cosa dobbiamo aspettarci? Bisogna aver paura di questo spread che è tornato sulle bocche di tutti? O no? Lei mi fa sempre le domande di fuggere la posta, mi ha messo in mezzo per crocifiggermi. Se fosse facile saremmo il guardario. E poi tra l'altro se lo sapessi non glielo dissi. Non glielo dissi, se lo sapessi. Ho scoperto l'altro giorno, io in Italia ultimamente per una varietà di ragioni mi sono aperto un conto a un residente che è un'assoluta follea. Ah, ecco. La regola è stata una cosa da piangere. Poi l'altro giorno mi è venuta l'idea, visto che c'era un po' di cast, dico vabbè, lo spread. Io ero anche sicuro che avrebbe calato dopo il tourbillon. Adesso arriviamo al punto che Mattarella con la sua, a mio avviso erronea, e poco saggia decisione ha preso, quando c'è stato il conflitto sopra Savona, ha detto vabbè, compro debito pubblico. Oh, è possibile. Bisogna compilare questo, bisogna compilare quello, poi bisogna aspettare, ti mettono in quarantena, ti fanno l'esame del sangue. Era una cosa mitica. È vero, era la prima volta. Ho detto no, poi dopo, appena perso i soldi per un paio di volte, poi devo continuare a perderli per sé. Mi dico, sì, perché lo vorrei fare adesso l'operazione, non è che posso aspettare 48 ore. Per sé, per 48 ore è andata via. Quindi sì, mi sono reso conto di queste cose che hanno tutte a che fare appunto con questa protezione del poco saggio risparmiatore. L'idea è quella. Che è un altro problema in realtà che voi dovreste affrontare, perché è vero che la consapevolezza dei piccoli meccanismi tecnici che non sono la fine del mondo, dei mercati finanziari, in Italia è particolarmente poco diffuso. Assolutamente. Questo è proprio un fatto drammatico. Vi sono delle concezioni stranissime. Questo è l'unico paese dove persone adulte, apparentemente non sotto tutela, e addirittura dotate alcune di cosiddette lauree, dicono cose strane sul meccanismo di generazione della moneta. ed è diffuso di massa. Questo dello spread è un altro esempio. La gente ha una strana concezione di queste misure di differenziale dei tassi sui debiti. E quindi si creano... Lì c'è proprio un problema. Il paese vive in una... Adesso è al di là. Sono sicuro che qua avremo tutte persone che molto probabilmente praticano queste industrie e sanno meglio di me come funziona. Però devo dire che quando leggo i giornali, quando vedo commenti sui social anche a me o a altri, prendi un po' spavento. E questo forse è la cosa di cui più preoccuparsi, perché c'è una non consapevolezza di come funzioni. Tant'è che anche recentemente ho dovuto assieme ad altri economisti entrare in una... Per noi non era polemica, poi l'è diventata giocoforza per la scelta del Corriere della Sera di non accettare la critica. E cioè girano idee su la rischiosità del debito italiano e sulle sue cause, sulla maniera di eliminarlo, che sono francamente analoghe alla stregoneria. Cioè non sono... Non hanno coerenza logica, sono della forma radice quadrata di 9 uguale a 27. Perché? Perché mi è venuto così. O perché il paese ha bisogno così. Il debito pubblico italiano, sarò onesto, a mio avviso non è un problema. Io questo non è che lo dico stasera, lo dico da tanto tempo. C'è una strana concezione che gira e devo dire che a volte è spinta anche da persone con cui su molti altri temi concorro. Secondo cui il problema del debito è che noi dobbiamo ripagarlo. Allora partiamo da lì. No, non dobbiamo ripagarlo. Nessun debito pubblico serio si ripaga. Infatti i debiti pubblici più seri nella storia della finanza mondiale si chiamavano perpetuity or console dell'impero inglese e dovevano per definizione la seguente caratteristica. Non ve lo restituiremo mai. Voi mi date 100 pound, io me le tengo, le spendo come voglio perché sono Her Majesty the Queen e poi vi prometto che vi pago 2,5%, 3, quello che è, forever. Questo titolo ve lo volete commerciare, è solido, c'è lo stampino del Commonwealth dell'impero, noi ve lo pagheremo sempre, è liquido, ci sarà sempre della gente che lo vuole perché c'è sempre della gente che vorrà una garanzia sicura di investire e avere un reddito di X per cento per sempre. L'idea di ripagare il debito, quindi, è un'idea che spunta quando? Quando è che vuoi ripagare un debito? Quando ti ripaghi un debito? Quando percepisci che non è più solido. L'idea di ripagare il debito è una specie di Pavlovian reaction di un creditore che dice orca, meglio che porti a casa quello che posso, perché questo qua sta facendo. Quindi, spingersi continuamente su quella linea argomentativa, vuol dire suggerire, guardi che io sono un debitore poco affidabile, che non è bella cosa. Il problema del debito è che devi fare l'opposto, devi garantire che non lo stai facendo crescere più della tua capacità di servirlo, per quello il rapporto fra debito e prodotto interno lordo o misure di capacità fiscale contano, che tu sei in grado di servirlo, che vuol dire pagare gli interessi, che il rapporto fra quanto sei esposto e quello che sai generare di ricchezza e reddito è stabile, e che quindi c'è ragione di credere che tu questo debito riuscirai a soddisfarlo a tempo indeterminato. Vedo in giro mondialmente, specialmente nei sovranisti, queste cose su ma il Giappone allora perché loro? Bugie. Perché? Uno, il debito netto dello Stato giapponese verso quello che non è detenuto in realtà come forma di investimento di fondi di pensione e altri, verso il pubblico è di poco superiore al nostro in termini di PIL, ossia 20 punti percentuali di PIL in più. Ma soprattutto il Giappone è un paese dove nonostante la crisi demografica il PIL per capita cresce, la pulita cresce, ed ha un carico fiscale, perché questo conta, un carico fiscale sul PIL che credo sia 10 punti inferiore al nostro. Ora, siccome ciò che conta dal punto di vista del creditore è la tua capacità di estrarre risorse dall'economia privata trasformandole in gettito fiscale tuo per servire il debito, è chiaro che un paese che ha, come l'Italia, si è avvicinato enormemente, molto vicino alla soglia della capacità dello Stato mi viene un termine volgare di estrarre valore aggiunto dal settore privato per pagare i suoi costi. Quando sei al limite, chiaro che chi ti sta prestando solo dice aspetta un attimo, quando sei molto lontano dal limite hai un buffer sostanziale, è un'altra cosa. Questo vale per Giappone ma vale anche per la Spagna. Non è che io seguo, quando mi interessavo un po' di politica lo guardavo, se credo che la Spagna sia più o meno lì, credo che il clarico fiscale spagnolo sia dell'ordine di otto punti di PIL, nove punti di PIL inferiore al nostro, posso sbagliarmi, qualcuno lo verifichi, ma è sostanzialmente inferiore al nostro. Quindi sono paesi che anche se hanno un burden, un rapporto fra debito e GMP simile al nostro, la Spagna inferiore credo viaggia attorno al 100, il 98, il Giappone superiore, hanno in realtà un marge che la ragione è a rovescio per cui il debito argentino è continuamente un fattore di rischio anche se il suo rapporto al PIL è molto inferiore. Perché? Perché l'Argentina è un paese che ha obiettivamente raggiunto il limite della sua capacità di estrarre gettito dal settore privato, quindi variazioni in quel senso trasformano il debito in rischio. Quindi io, francamente, l'approccio al debito in Italia lo farei da questo punto di vista che poi ci riporta sempre la stessa storia e cioè il problema è la crescita, il problema appunto con cui l'hai iniziato il sistema fiscale che è poco efficiente che non favorisce la crescita e ovviamente il problema di quanto spendi perché è lì che te la giochi. È lì che te la giochi. Se tu continui a avere una struttura della spesa che è particolarmente alta, particolarmente rigida, che non è per niente ciclica ma è strutturale, nel senso che hai promesso che fai queste spese e le fai per sempre, venga il sole o venga la pioggia tu le devi fare, è chiaro che stai dicendo a chi ti presta i soldi io sono uno che viaggia sulla lama al rasoio e qualsiasi colpo di vento riesco io di cadere sul rasoio. Però è questo il rischio del debito, non il debito per sé, quindi io credo sarebbe importante riuscire proprio a eliminare dal dibattito tutti questi discorsi che hanno a che fare con l'ammontare del debito, con la necessità, se vuole poi veniamo alle ragioni della polemica, la necessità che gli altri paesi ci aiutino assicurare il nostro debito che la BCE ce lo monetizzi comprando a noi più debito degli altri come se la BCE fosse la Befana che fa i regali solo agli italiani, se togliamo questa mitologia che è una forma di distorsione del dibattito, che il problema sia lo stock del debito e non quelle altre cose che ho detto e forse evitiamo anche conflitti assurdi con i tedeschi, con la BCE e con gli altri partner europei e ci concentriamo sulla cosa che conta che è garantire che siamo in grado di servirlo. Poi nessuno ci chiederà di ripagarglielo, io non ho proprio, non esiste, non credo esista, ci pensavo prima, non credo esista di sicuro nel secondo dopoguerra, quindi negli ultimi 70 anni, nessun paese avanzato che si sia mai sognato di dire adesso ripaghiamo il debito. Quindi anche per esempio tutti i discorsi sulla patrimoniale e mi fermo se vuole poi che girano continuamente che ho visto uscire anche in questi ambienti in cui mi sono sempre opposto ma non per ragioni ideologiche ma per ragioni tecniche. È un'assoluta si può dire cretinata? Cretinata dire bisogna fare la patrimoniale per abbassare il debito, è un'assoluta, basta fare due conti, se abbassi il debito del 10% vuol dire che devi estrarre in un colpo solo dal reddito degli italiani. Per pagare le tasse devi trasformarlo in qualcosa contante. 250 miliardi che è una cifra gigantesca. Voi pensatevi 250 miliardi in più te li regalo. È una roba da ridere questo paese dove la gente fa coltellate per finanziari di 8, 12, cioè 250 è una botta infinita. Ma poi uno ci pensa e cosa ci ho guadagnato? Sono passato dal 134 cos'è? Al 125 e basta in tre anni come... Sono tornato al punto di partenza ma ragazzi lasciamo stare questa discussione da destra a sinistra è una follia è una perdita di tempo è confusione parliamo di come è fine. Però ci ha detto una cosa importante cioè c'è anche un... Più di una. C'è anche un modo sbagliato di raccontare quindi il debito pubblico oltre che appunto di affrontarlo. Credo che ci sia stato per effetto della tensione della retorica politica un insistere cioè perché il numero è grande cioè tu metti il no è l'effetto del trasformare le cose tecniche in retorica cioè dire 120 130 cresce fa impressione no? Perché c'è la famiglia hai un debito che è il 40% più grande del tuo reddito annuale come fai? Eccetera. E questo ha messo l'enfasi su questo su questo devo dire il contributo di economisti se ci fossero gli economisti seri che entrano nel dibattito pubblico vengono ascoltati potrebbe aiutare a far capire che il problema invece è lavorare insomma non andare continuamente come vedo con queste proposte una più assurda dell'altro perché ci tolgono credibilità cioè avere gente che è anche vicina a questo governo ma anche a quello precedente cioè adesso io non ho nessuna intenzione di fare manicheismo questi sono tutti cattivi quelli aransanti non è vero cioè io lo vedo da anni girare in Italia la gente con le proposte più fantasmagoriche più assurde che vanno in giro sui mercati internazionali a dire assurdità su come miracolosamente assicurare il debito pubblico qualsiasi persona che sa di finanza che si dice Modigliani Miller gli risponde e basta sembra che non la capiscano capisce cioè avere uno come questo signor Minenna che da quello capisco è pure un tecnico della cosa che va in giro a scrivere sui giornali internazionali cose assurde tecnicamente che non reggono perché reggono solo se il resto del mondo ha deciso di fare bavo Natale per gli italiani ma quello si è capace tutti mi presti un milione se lui mi regala un milione io risolvo spieghiamo la proposta che è arrivata sulle pagine del Corriere non sono molto chiare queste proposte però consiste in una variante o l'altra della mutualizzazione del debito con adesso una variante che è la seguente e cioè la costruzione di un fondo a livello europeo che assicurerebbe il debito italiano allora per chi qua fa assicurazione non si capisce al volo c'è uno spread in questo momento cioè il tasso di interesse implicito nei prezzi a cui il debito italiano quota sul mercato secondario misura in una certa maniera la probabilità che non si ripaghi giusto? quindi in realtà questo extra costo misura la probabilità per unità di tempo che tu finisci per non ripagarlo e questo diventa un costo per l'investitore chi in Italia si indebita perché poi si riflette su tutto non vado bene allora l'idea è lo eliminiamo per eliminarlo vuol dire che voglio creare una situazione per cui il governo italiano può emettere debito a tassi di interesse diciamo così pari a quello tedesco ci accontenteremo anche di quello francese suppongo oggi come oggi anche di quello spagnolo va bene come lo facciamo oggi come oggi sembra che gli investitori non siano disposti ad accettarlo perché perché chi ha risparmi in tasca sia esso banca italiana o straniera risparmiatore famiglia italiana o straniera dice no io te lo presto le 100 lire però tu mi devi dare cos'era l'altro giorno 2.7 3.4% se non mi dai 3.4% io a te i soldi non li presto li presto alla signora Merkel bene se allora voglio che me li presti agli stessi prezzi alla signora Merkel dice questa proposta io quello che faccio io emetto allo stesso tasso della signora Merkel nel contempo però gli dico guarda si lo so che io sono più rischioso però adesso mettiamo dei soldini tipo premio assicurativo in un conto lì esattamente come facciamo tutti per assicurare il rischio che andiamo a sbattere contro il muro con una macchina paghiamo ogni mese ogni sei mesi un premio assicurativo all'assicurazione allora mettiamo dei soldini lì in un fondo assicurativo il quale dovrebbe coprire la perdita che tu subirai dovessi io fare default ok quindi tu sei coperto io sono meno sono ugualmente rischioso che il debito tedesco perché in realtà c'hai i soldi della sicurezza ma allora qui delle due l'una e facciamo questa cosa progressivamente mano a mano che ritiriamo debito siccome la durata media del debito italiano è 7-8 anni adesso non mi ricordo nel giro di 8 anni tutto il debito in essere italiano ha un tasso di interesse allo 0,5 e non più a quelle che è adesso e nel frattempo abbiamo costruito questa allora delle due l'uno se questa percezione dello spread è vera e c'è un costo il principio sicurativo dice che ovviamente il valore presente e atteso di quello che metti che paghi di premio è uguale al valore dell'incidente che fai con la macchina moltiplicato la probabilità di andare a sbattere giusto quindi quello che entra da un lato esce dall'altro non c'è miracolo si chiama appunto modegliani miller per chi se ne intende i costi reali e i rendimenti reali degli investimenti non è che li cambi facendo giochetti finanziari capisci cioè quelli non cambiano quindi se il rischio c'è e gli investitori lo percepiscono come tale tu dovrai pagare di premio assicurativo un valore sufficiente tanto quanto e questo non dipende dal fatto che siano cattivi o tedeschi lo farà anche il dottor Galvani esatto farà due conti se pagano il premio giusto compro se no lo compro allora a me sembra improbabile impossibile che una persona dotata apparentemente di una laurea in economia e che fa vada in giro a dire cose del genere però questo è quello che io leggo ora io sarò anche forse ho letto male certo c'è un'altra interpretazione della cosa l'interpretazione qual è è che a questo fondo in realtà contribuiscono anche gli altri e qui la cosa diventa ambigua in maniera non proporzionale al loro rischio beh allora traduciamola siccome gli altri benedetti saranno anche cattivi e mangeranno crauti ma non sono scemi cioè dicono ma scusa cioè mi stai dicendo che devo pagare io per te ma allora non serve essere dei geni no c'è una maniera molto più senso c'è il dottor Galvani mi presti due milioni non te li rendo mai più però dai si generoso abbiamo la camicia simile vogliamoci bene capite quindi non si può costruire un governo una reputazione internazionale dicendo cose del genere lo dico seriamente lo dico con un po' di tristezza non si può a mio avviso non si può non è possibile che il maggior quotidiano italiano diffonda cose del genere e poi non abbia l'onestà e il coraggio di dire beh scusate c'è stato tre dettagli e abbiamo sbagliato non è un gran problema si corregge il New York Times poi anche quello si corregge la sera no e quindi lì si crea e quindi però ecco sul piano generale in Italia c'è questa idea che sta diventando veramente di massa che occorre fare cose strane di ingegneria finanziaria di mutualizzazione a livello europeo per proteggerci da noi stessi e che però tutto questo sia in dolore che non ha costi extra per gli altri sia appunto magicamente fattibile questa parte non è vera e questo secondo me è grave perché distorce l'attenzione degli italiani perché continuano a fargli pensare è perché Draghi è cattivo è perché i tedeschi sono cattivi è perché i francesi ci hanno appena rubato il mare di Sardegna no? l'ha detto Salvini qualche mese fa è perché ci odiano invece non è così sicuramente forse hai fatto un accenno al tema del mi piacerebbe che facessi qualche ragionamento più sul tema GDP su debito più in generale la relazione che c'è tra la potenza che ha un paese in qualche modo di sostenere la sua struttura debitoria verso quello che riesce a produrre e noi negli anni questo divario l'abbiamo allargato inevitabilmente mi piacerebbe che elaborassi un pochino più questa cosa perché ho avuto come la sensazione alla fine insomma sì è importante ma non è così più cosa importante ho forse capito male io cioè come il peso secondo me non è così importante cioè quando sei un paese credibile con un pil che cresce con una capacità di uno stato serio ovviamente è tutta credibilità adesso non voglio mettermi a fare la teoria economica però per e non voglio se ci sono altre domande parliamo d'altro perché siccome questa è una questione essenziale in Italia che non si sembra capire sia la moneta che il debito pubblico sono promesse da parte di un'entità politica che ha un potere se puoi chiamare militare del sovrano il sovrano non importa come il sovrano gli hai dato l'autorità qui li diamo col voto una volta si prendeva con la spada ma comunque abbiamo ceduto un'autorità dei soggetti e hai detto comanda tu per conto proprio per conto nostro d'accordo? il quale dice ascolta adesso io mi appropio di un tot di risorse della nazione di voi vi do in cambio delle promesse di pagamento futuro perché quelle risorse mi servono per usarle una volta gli servivano per fare la guerra quello che vuoi tu non importa conta ovviamente sulla reputazione del sovrano come userà queste risorse se le usa per andare in guerra e perderle diventerà come sappiamo dalla storia finanziaria al mondo che il credito glielo facciamo ma a tassi molto più alti ugualmente se queste risorse le raccoglie per fare investimenti buoni per fare investimenti cattivi dove butta soldi ci penseremo due volte a dargli soldi però quello sono la differenza fra moneta e debito è che la moneta quando la emette o il sovrano attraverso la sua banca e per quello poi è stato ragionevole creare istituti specializzati che sono pubblici che sono controllati dal politico dal potere politico questa storiella che le banche centrali sono private sciocchezza che gira senza nessun senso cioè visco la nomina il presidente del consiglio della maggioranza del parlamento Draghi è lì per decisione politica di governi democraticamente eletti non è lì perché l'ha paracadutato Rothschild però delegata è mettere cosa questa roba che chiamiamo moneta che se ci pensi è un claim come si dice un diritto a prendersi perché è legal tender no cioè la devi accettare per forza se io vengo con l'euro tu non mi puoi rifiutare di dire no io l'euro metto il pagamento non lo tengo su oggetti presenti quindi su pil corrente ok quindi quando io metto moneta se lo faccio comprare se pensi come viene messa moneta la moneta la banca centrale va da una banca commerciale che in portafoglio ha dei titoli che sono promesse di pagamenti futuri e dice no guarda te li compro prendi sta roba qua moneta liquidità cioè questa ti dà la capacità di andare subito al mercato e comprati le patate mentre con i titoli di debito che hai in portafoglio non puoi andare al mercato e comprati le patate sono una promessa di una cosa che arriverà ma se tu vai in un negozio di Milano e dici guarda io ci avrei qui un bot un BTP mi dà la Ferrari quella ti dice no guarda faccia una cosa lì accanto c'è un trading room la venda torni col cash e le do la Ferrari e c'è una differenza fondamentale allora scusatemi se mi metto a fare professore però è davvero essenziale questa cosa non è irrilevante alla percezione di quanto buoni siano queste due promesse la moneta il debito che rapporto c'è fra di loro a ogni punto nel tempo perché una è una promessa del governo che dice tu hai il diritto con quella roba lì di comprarti pil presente roba fatta adesso negozi scarpe che sono in negozio l'altra è una promessa dello stesso governo che ti dice guarda con questo avrai scarpe future e io ti prometto che quelle scarpe verranno prodotte in questo paese perché siamo un paese serio io le tasserò e ti manderò le tue paia di scarpe promesse allora queste due promesse sono credibili se il rapporto fra di esse corrisponde per chi investe ok per i risparmiatori a un rapporto credibile fra reddito attuale di un paese e quello futuro per quello è importante avere una reputazione se io ho tanto debito ma ti prometto credibilmente che farò reddito futuro e quindi reddito fiscale il tuo debito diventa credibile giusto se invece io ho tanto debito e non sono in grado di garantirti che fra due tre quattro cinque sette otto anni sarò anche in grado di produrre reddito e gettito fiscale e tu cominci a pensare che è il mio debito viceversa se io appena mi accorgo che tu non ti fidi del mio debito perché dici madonna Michele magari fra cinque anni è lì come è ridotto c'ha già il problema l'anca non farà più niente vecchio patocco lo vedi che è fatto male e dici allora cominci a venderlo sto debito cos'è che fai stai come chiamano sti qua monetizzare monetizzare vuol dire cercare di truffare perché vuol dire guarda siccome non ci credi più che fra cinque anni ti pago sai cosa faccio ti pago subito o faccio finta di pagarti subito però questa cosa è credibile se solo se all'improvviso oggi il mio pil cresce perché se no commetto è mettere una moneta che ti dà diritto a comprare pil subito senza averlo prodotto esatto quindi capisci madonna sono davanti troppo però siccome è una cosa fondamentale questa discussione folle che continua a girare in Italia sulla monetizzazione del debito come se fosse Maga Mago davvero lei Paperino si ricorda è davvero assurda cioè non è vero che puoi monetizzare ad libitum puoi monetizzare in parte mantenendo un certo equilibrio fra promessa di reddito futuro e promessa di reddito presente se esageri da uno dei due lati salta la baracca perché quelli che ti comprano la roba sono mica scemi sicuramente però le proposte creative diciamo sulla risoluzione del debito pubblico italiano ci lasciano ci lasciano intuire che ci stiamo comunque muovendo in una strettoia pericolosa un po' come come i funamboli ma perché l'abbiamo guarda e chiudo l'abbiamo creata se noi avessimo la capacità e la nostra classe politica anche quella nuova avesse la capacità di shiftare la tensione da lì a problemi di crescita di riaggiustare il sistema fiscale produttività credo che il mondo potrebbe anche dire boh gli italiani non hanno più voglia di fare trucchi non hanno certo dobbiamo anche dirgli sì non vorremmo fare esplodere il debito nei prossimi cinque anni se noi gli diciamo boh non parliamo più di debito però guarda sai adesso lo faccio crescere al 5% all'anno magari si nervosistono però se diciamo stiamo lì sul sentiero e ci occupiamo di altre cose secondo me il problema sparisce ma io mi chiedo in questo contesto di instabilità e qui rivolgo la domanda a Galvani come si muove una società come come Money Farm e in che modo appunto vi relazionate i vostri clienti in questo momento storico particolare beh diciamo che adesso torniamo proprio più nel concreto di quello che noi interpretiamo essere un buon modo di gestire i propri investimenti che però non è molto dissimile da tante considerazioni che sono uscite adesso no cioè alla fine quello che noi pensiamo è che quando poi si tratta di gestire i propri risparmi il tema di avere un modello che non sia eccessivamente centrato su soltanto alcune asset class o alcune forme di debito ma che sia molto distribuito ti permette in qualche modo di navigare poi in momenti particolari che sono di difficile previsione se non impossibile voglio dire in modo tale che quel tuo investimento che hai il dovere direi di preservare di cercare di far crescere non venga intaccato da quello che succede sui mercati l'esempio torniamo a parlare dell'esempio dello spread era come dire quando vediamo i risultati delle elezioni io mi occupo da un po' di anni di mercati finanziari quando ho visto i risultati delle elezioni ho pensato domani mattina domani mattina balliamo sui mercati perché in realtà se voi avete notato questa cosa non è successa per un mesetto e mezzo non abbiamo parlato di spread siamo stati senza governo non sapevamo dove dovevamo andare a finire ma lo spread non si è mosso poi c'è stato un momento in cui questa cosa ha incominciato ad accelerare e una cosa che poteva essere in qualche modo prevista però in realtà è successa due mesi dopo e adesso siamo qui che stiamo cercando di leggere bene cosa sarà l'effetto allora cosa voglio dire con questo ma posso raccontarvi una serie infinita di esempi il giorno dopo la Brexit la borsa inglese era più alta rispetto a quello che vogliamo parlare di Trump e dell'effetto cioè ce ne sono mille cosa significa significa che il lavoro mentre si può in qualche modo cercare di costruire una strategia di investimento che guarda al medio questo è quello che crediamo noi adesso scusate dal nostro punto di vista per come la vedo io mentre si può cercare di costruire un modello che investi i propri denari cercando di guardare a delle analisi che sono più di medio termine macroeconomiche quindi fare un'analisi più di medio di scenario è veramente molto 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 difficile riuscire a investire i propri soldi con un orizzonte temporale breve pensando di essere più bravi di quello che è il mercato in qualche modo entrando in quella dinamica di trading dove siccome succede questo allora faccio quest'altro e siccome io sono più bravo degli altri riesco a portare a casa più soldi questa cosa qui la storia e tanti modelli ci insegnano è veramente molto difficile non è impossibile alcune persone ci riescono ma la percentuale è veramente minima allora tornando al tema del come fare per gestire i propri soldi e i propri risparmi in maniera un pochino più virtuosa l'idea è proprio quella di dire evitiamo questo approccio che non ci porta da nessuna parte e cerchiamo anche di non farci irretire da promesse o da racconti di altri che possono farlo cerchiamo di fare le cose fatte un po' meglio costruiamo dei modelli che guardano prospetticamente un po' più in là non facciamo confusione tra la scommessa e l'investimento che è l'altro grande tema se questi sono i soldi per la mia pensione o per pagare l'università a mio figlio quei soldi lì devono esserci alla fine quindi se poi mi voglio giocare un po' del mio risparmio per vedere se ho ragione che la Fiat andrà meglio o peggio lo faccio ma è un'altra cosa sono proprio due piani completamente diversi e se devo costruire un piano che deve preservare il mio capitale deve aiutarmi per certe cose importanti lo faccio con delle logiche che sono completamente diverse da guardare a quello che succede al mercato domani mattina e quindi faccio un'analisi di scenario guardo come sta andando l'Europa come sta andando gli Stati Uniti come vanno gli emerging market rispetto alle currency e cerco di costruire un paniere di tutte queste esposizioni che mescolate insieme danno certe aspettative di ritorno e certe aspettative di rischio attenzione bene che sono sempre aspettative non sono mai cose sicure ma quantomeno basate su una storia pregresse basata su un po' di analisi gli permettono di navigare direi in maniera molto meno angosciante e molto più strutturata verso un obiettivo esempio concreto portafogli nostri in questo ultimo mese hanno un pochino ballato ma direi nel complesso molto poco se penso a quello che può aver fatto un BTP a dieci anni che negli ultimi nell'ultimo mese può aver tranquillamente perso probabilmente 14-15 punti di valore che è tanta roba cioè voglio dire se tu hai comprato un BTP a dieci anni ci sono due punti di spread che ballano 200 basis points sono circa 14 punti di prezzo vuol dire se hai comprato a 100 vale 85 se devi venderlo ancora una volta poi il tema della necessità rispetto al se devi tenerlo quello non cambia quindi tutto questo per dire bisogna stare molto attenti a leggere bene e a capire quello che succede però secondo me sono due piani diversi da un lato c'è una lettura e c'è una visione diciamo di gestione di periodo che è quello che noi cerchiamo di fare costruendo dei portafogli molto vari che ribilanciamo 3-4 volte all'anno invece l'altra cosa è il tema del trading dell'acquisto della vendita della situazione come vi ho raccontato prima che è un lavoro completamente diverso che noi non facciamo e mi sentirei di dare un consiglio in generale insomma che consiglierei di fare con molta cautela o quantomeno con una piccola percentuale di denaro che è dedicato a quella cosa lì perché altrimenti poi si possono creare delle situazioni molto complicate vi do soltanto un numero per chiudere perché secondo me è molto interessante ci sono parecchie piattaforme che offrono il trading online e incentivano a utilizzare anche strumenti che hanno della leva interna per cui insomma a fronte di una unità investita tu in realtà hai un'esposizione molto più ampia che non uno hai 3, 4, 5 ecco sono modelli che tendenzialmente si basano su una diciamo così una moria del cliente all'interno che inizia a fare queste operazioni e la vita media generalmente stimata per un cliente all'interno di una piattaforma di trading in genere è di 6 mesi cioè nell'arco di 6 mesi circa il 90% dei clienti che incominciano a fare trading online hanno perso tutto hanno perso tutto quindi e quindi come funziona funziona che tu hai 6 mesi di tempo per monetizzare quello che è stato il costo di far sì di convincerlo a venire nella piattaforma quindi tu hai tutta una serie di spese di marketing di comunicazione e quant'altro per fare in modo che la gente arrivi poi questi devono fare tanto trading però mediamente i numeri girano così quindi vuol dire che ce n'è un 10% che va anche bene però insomma è un modello molto diverso e tornando al tema dell'educazione finanziaria insomma qui ci sarebbe molto molto raccontare si può fare però insomma pochino lì con una visione molto 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 precisa e per il resto però gestire le cose in modo diverso basta anche io siamo troppo lunghi stasera allora io infatti rialvolgerei un attimo il naso tornando all'inferno di cui parlavamo inizialmente abbiamo parlato di debito abbiamo parlato di investimenti un po' tutto si tiene si collega rispetto alla domanda che le ho fatto professore Bollini inizialmente che cosa c'è di sbagliato in questo fisco infernale italiano e quindi che cosa manca in questa ricetta del governo attuale ma qual è la sua ricetta per per riuscire a renderlo più paradisiaco diciamo siccome Paolo ha appena detto che abbiamo parlato troppo non rispondo neanche sinteticamente allora guardi io sono purtroppo avendo avuto ma non purtroppo mi sono anche divertito in quell'esperienza ma visto che giusto sei anni fa in questi giorni stavo scrivendo con Sandro Brusco una robina che poi ci abbiamo ci siamo anche divertiti per un paio d'anni a far finta di far politica i problemi sono gli stessi se lei guarda quella robina che era il manifesto iniziare a fermare il declino a noi una cosa non c'era che bisognava ripagare il debito c'erano tutta una serie di cose sulla riduzione del carico fiscale specifiche anzi alcune molto specifiche non glielo voglio ripetere qui perché altrimenti davvero poi ci tirano le uova e c'erano cose altrettanto specifiche sulla riduzione della spesa e tutta una serie di altre cose le cose da fare sono ancora quelle basta proclami basta promesse comincino a tagliare la spesa per davvero alcune delle cose che perotti cottarelli i vari che hanno guardato sono tutte ovvie poi sono ovvie basta farle vanno dai famosi e mitici a come si chiamano quelli calabrosiculi che sono più dei canadesi forestali forestali al problema delle pensioni che vanno lentamente ma ferreamente trimmed come si dice così quello che dovrei fare ai miei capelli che non ho fatto sforbiciate in maniera appropriatamente progressiva ma così è perché il grande furto intergenerazionale non solo continua ormai è arrivato a dei livelli tremendi eccetera sono quelle cose lì io credo che e poi ci sono ovviamente problemi di cui si discute non sono l'ultimo a dover parlare di queste cose qua cioè le cose che abbiamo descritto queste sciocchezze che purtroppo una burocrazia onnivora e malgestita dai politici continua a introdurre nella vita degli italiani rendendo la loro vita infernale con moduli da compilare cose da fare passare attraverso il cerchio di fuoco eccetera sono tutte cose che riducono la produttività del sistema e sprecano risorse che è il vero problema dell'Italia l'Italia ha una fortuna straordinaria c'è una macchina infernale nel senso buono paradisiaco che è compresa in un tunnel attorno al podici di un raggio di circa 150 chilometri che riesce a produrre una quantità nonostante tutto di roba stupenda ha reso l'Italia riuscita a creare la ripresa approfittando della crescita mondiale guardavo oggi i dati nel caso se andessimo parlando è quello che tira cioè in questo momento alla faccia delle cretinate sull'euro che ci uccide grazie alla stabilità dell'euro eccetera eccetera la macchina export italiana ti rimpie di tutto perché non c'è nient'altro che si sia ripreso se non certi servizi collegati certo poi per carità le banche le finanze però se non c'è quella roba lì che sono 15.000 imprese 18.000 imprese più i loro che stanno tutte in quel tunnel che ho appena descritto il paese sarebbe venuto a gambe all'aria allora se io fosse il governo a quelli devo pensare a come tenere in piedi quelli a evitare che becchino un'altra botta gigantesca come quella che presero nel 2009-11 perché se no saranno anche bravini ma già se ne sono scappati un tot ma ne scappa un altro tot vedere se ne arrivano degli altri e possibilmente vedere se qualcuno di questi trova delle ragioni di efficienza di profitto a cominciare a scendere lungo la dorsale appenninica magari attraversarla andare verso la tirrenica no e comunque scendere sulla costa adriatica un po' più giù sostituendo i pomodori del foggiano forse i trading desk di Paolo Galvani questo è il problema del paese che lo si può fare con un governo saggio che non faccia annunci sciocchi per carità tocca a loro che buttino alle ortiche di costerà con il loro elettorato che buttino alle ortiche queste sciocchezze del reto di cittadinanza la flat tax la rava la fava che si mettono a governare il paese dando vita aiutando il motore che tiene in piedi il paese perché se quel motore lì si inceppa di nuovo si becca un'altra botta siamo ancora a livelli direi tante cose indietro rispetto dove eravamo nel 2006 adesso speriamo speriamo dobbiamo tra l'altro augurarci perché sia chiaro che la macchina che esporta sta esportando perché le crescite invece interne dei grandi paesi Germania Stati Uniti eccetera Cina continuano a comprare roba nostra però se questi che hanno un meccanismo di crescita loro i cicli hanno la loro storia arrivano a stancarsi i nostri che esportano si fermano poi l'effetto su di noi il moltiplicatore viene rovesciato altro che il moltiplicatore della spesa pubblica qui c'è il divisore della recessione internazionale la crescita americana che è quella più forte ormai ha nove anni non è che i periodi di crescita durano all'infinito io infatti sono sei mesi che dico secondo me siamo lì ok per carità spero di sbagliarmi magari dura però quindi c'è anche un orizzonte temporale per permettere a questa crescita trainata dall'esport di diventare crescita endogene italiana con nascita di imprese che non è molto ampio quindi invece di perdere tempo a dire cose strane si dedicassero a cercare di espandere sta roba laddove nel paese non c'è basta guardare le differenze nei tassi di disoccupazione per capire dove c'è e dove non c'è non è difficile quindi lei è rimasto ancora dell'idea che non ha senso parlare di crescita in questo momento in Italia ah di quella vecchia intervista si non c'è crescita nostra è un fatto se lei guarda la distribuzione hanno proprio l'impresa lei guardi guardi le aziende dove c'è crescita del valore aggiunto e si renderà conto che il 70% di quell'1,5 cos'è 1,6 di GMP è fatto dal settore che esporta e da quelle cose che induce certo perché quello che esporta macchinari o che so la Brembo che esporta freni a BMW c'ha anche poi se esporta di più c'ha anche l'autotrasporti locale bergamasco che è indotto c'ha un po' più di lavoro di commercianti certo fa lavorare anche chi gli sta attorno per carità però se poi tu guardi quella che vuoi chiamare la struttura input-output è da lì che viene se Brembo perde dico Brembo spero di non violare nessuna norma perché c'è un posto dove non bisogna chiamare nessuno per nome insomma se l'impresa X che fa freni non ha più lì in quella roba il chilometro rossa non c'ha più la domanda di quell'impresa Y lì in Bavaria che fa macchine rapide e poi il fornaio che vende meno pane è così che funziona capisci io per quello che ho guardato l'ultimo anno e mezzo è questo che vedo andare mi sembra così insomma prima di passare alle eventuali domande dal pubblico vorrei tornare sul Fisco Inferno con Galvani che dal punto di vista di Money Farm ha anche come dire uno sguardo una doppia visione perché Money Farm sappiamo che ha questa doppia faccia italiana e inglese per cui le chiederei il motivo per cui Money Farm ha guardato la Gran Bretagna e che cos'è del Fisco della burocrazia inglese in parte ce l'ha già detto che importerebbe invece in Italia visto che finora abbiamo parlato di export andiamo velocissimi perché poi siamo andati lunghi abbiamo parlato più volte di questo tema Inghilterra Italia probabilmente l'aspetto che mi ha colpito di più se devo dire la verità sul lato che ho toccato con mano è questo famoso il cuneo fiscale il cuneo fiscale è stata una cosa che ho sperimentato io sulla mia pelle con UK e Italia che corrono in parallelo cosa vuol dire? Vuol dire che il costo che Money Farm Italia sostiene per avere un dipendente in Italia e quindi le imposte che noi paghiamo prima che poi arrivi l'ordo al dipendente e quindi che poi alla sua volta lui pagherà le sue imposte ecco quel costo lì è di più di tre volte in Italia rispetto che l'Inghilterra tra le tre le quattro volte cosa vuol dire questo? Vuol dire che per cento euro che io immagino come costo azienda in Italia e che arrivano al mio dipendente nella misura di circa trenta trentacinque perché se tolgo le mie che pago come azienda e tolgo le sue che paga come imposta da cento arriviamo a trenta e le stesse cento in Inghilterra sono circa sessanta che arrivano a lui che arrivano a lui esatto allora voi capite che questa cosa qui è un massacro perché cosa succede? Succede che alla fine per non parlare dei temi incentivanti ne abbiamo già parlato una volta scorsa come sono tassate ad esempio le stock option in Italia rispetto a che l'Inghilterra quindi tutti i temi incentivanti che sono massacrati in Italia rispetto a che l'Inghilterra è una realtà che la tassazione sul lavoro sulla costa del lavoro e ve lo dico da chi ha fatto per un sacco di anni il lavoro dipendente quindi questa cosa non la percepiva quando mi sono trovato dall'altro lato è forse la cosa che mi salta più agli occhi questa cosa cambia veramente radicalmente le dinamiche nella ricerca delle persone in quanto le persone sono contente in quanto puoi pagarle perché voglio dire a quel punto ti puoi permettere di pagare un po' di più le persone dal momento che e loro materialmente guadagnano di più alla fine quindi stanno meglio quindi si crema tutto un circolo virtuoso proprio sulla capacità di spesa sul benessere la parità di spesa per me perché voglio dire le variabili sono due o spendo uguale e ho dipendenti più contenti oppure posso giocarmi quella cosa spendendo di meno che ci crea un problema competitivo è un dato di fatto questa cosa qua e quello è se dovessi partire da un aspetto quello lì è un tema critico che sarebbe importantissimo affrontare da subito non mi addentro sul tema del Jobs Act se non per dire che per noi il Jobs Act è stata una cosa importante quando è arrivata è stata una grossa poi ancora una volta Manifarm non è rappresentativa del mondo dell'imprenditoria in Italia quindi abbiamo un certo tipo di persone che lavorano con noi sono tutte qualificate insomma adesso non voglio prendete sempre il micro caso e quindi non vuole essere però sicuramente il Jobs Act per noi è stato una semplificazione e ha permesso di come dire di costruire un modello in Italia molto più fluido e molto più flessibile è giusto per intenderci cioè vuol dire tutta questa polemica sul tema del lavoro a tempo determinato noi l'abbiamo sempre affrontato in maniera molto molto trasparente cioè se una persona è brava tu la vuoi tenere non vuoi infanare sei tu per primo che dici no no aspetta un attimo vieni qua quindi il problema non c'è quindi risentire discussioni sul togliamo il Jobs Act crea crea insomma crea ulteriori riflessioni e ulteriori insomma come dire dubbi su come riusciamo a rimanere o a cercare di diventare più competitivi a livello europeo questo è un fatto però adesso non finiamo stanotta un po' di tristezza esatto facciamo un po' di domande esatto se ci sono domande solo se allegri e ottimisti allegri e ottimisti esatto forse serve il gelato sono 12 milioni tutto il resto tutto il resto del paese vive pensioni dipendenti statali o altri di pubblico 12 milioni di persone che contribuiscono alla macchina pubblica di cui probabilmente un milione e mezzo in realtà sono pubblici nascosti poste ferrovie all'Italia se voi vado avanti partecipate lì in fondo ho apprezzato molto il punto di vista sul debito pubblico e visto che parliamo di fisco vorrei avere la sua opinione su un'altra storia non la voglio chiamare barzelletta del recupero dell'evasione che periodicamente ci propinano beh anche lì mi ripeto sì è una barzelletta l'evasione in Italia è un problema serio e come ho sempre detto c'è un'unica soluzione far crescere le imprese perché il vero antidoto all'evasione è l'impresa grande non è l'ispettore ministeriale che ti viene a frugare nelle tasche diciamo così quindi certo i tassi di evasione in Italia se uno li guarda poi se li guarda regionalmente provincialmente scopre che hanno e poi fa la stessa operazione in giro per il mondo scopre che la determinante principale vi farà ridere non è nemmeno una cosiddetta moralità eccetera io credo che ci siano le culture nazionali diverse l'attitudine che abbiamo noi italiani verso lo stato e il fisco è diversa da quello che ho appreso vivendo 35 anni negli Stati Uniti è diversa cioè obiettivamente diversa però alla fine la determinante è la dimensione media delle imprese ed è banalissimo il meccanico che lavora lui nell'officina sua lui il figlio il genero è facile no? invece il mio meccanico a Chicago fa parte di una catena dove quindi il padrone dell'officina o corrobe il coordino 400 o 4500 dipendenti distribuiti nei 50 Stati dell'Unione oppure paga è tutta lì quindi certo ma la lotta l'evasione fiscale in Italia l'ho sempre detto si fa con la crescita economica e con la crescita della dimensione media delle imprese finché abbiamo un sistema e spero di non far arrabbiare nessuno perché questo a me in Italia è costato insulti finché abbiamo un sistema in cui mitizziamo la microimpresa inefficiente la sussidiamo buttiamo via soldi per tenere in piedi la mitologia del piccolo commerciante l'impresa familiare l'artigiano continueremo anche a fomentare non solo bassa produttività non solo salari bassi non solo poca crescita del reddito ma anche evasione fiscale è così quindi licenziassero tutti gli ispettori o meglio li mettessero a lavorare dove vale la pena lavorare non a massacrare la gente di controlli e invece li usassero gli stessi ispettori per trovare maniere per far crescere la dimensione media dell'impresa è lì la soluzione non c'è altra e poi ecco e capiamoci anche se arrivi a una situazione ideale che nei dati obiettivamente è quella americana cioè tutte le stime di chi stima l'evasione fiscale dice negli Stati Uniti l'evasione fiscale è un 10-11% del PIL da noi è un 28% però per dire in Svezia viaggia sul 22% quindi l'altra bugia è di pensare che o se recuperassi tutta no cioè se sei realista e vai a parametri diciamo europei recuperi 5 non recuperi 28 è del tutto secondario questo argomento però anche lì bisogna togliere i numeri perché i numeri che vengono usati sono ridicoli non è che recuperare l'evasione fiscale tu recuperi tutta l'evasione stimata non lo fa nessuno cioè gli svedesi hanno un'evasione stimata attorno al 22% del PIL quindi non so se ho risposto ma insomma come la vedo io è ipotizzabile che nonostante la nostra pressione nonostante la pressione fiscale in Italia riusciamo a essere ancora competitivi per l'effetto dell'evasione no no chi evade non è quello lui non evade quel signore di Bergamo di cui parlavo prima non evade capisce chi tira chi esporta non evade chiunque a me proprio ci sarà una frazione in una frazione ma chi è capace non evade perché ha una dimensione minima è una dimensione superiore a quella che è perché fa fatture a certa maniera perché deve esportare perché vende in Cina deve infilare per cui per riuscire a evadere deve far su un tal casino che non finisce più evade l'ortopedico il dentista il meccanico se vuole vado avanti con l'elenco quello che fa le supplenze l'avvocato ha no mica evadono utilizzano il regime fiscale adeguatamente pagano le tasse Amazon addirittura pagano anche le tasse in Italia non evadono per niente cerchiamo di non dire ecco vede queste sono le cose che in Italia bisogna smetterla di usare il linguaggio a caso scusatemi io su questo sono durissimo faccio il professore il linguaggio a caso delle parole è abusivo e crea danni sociali Google non evade Amazon non evade pagano le tasse secondo le norme esattamente come le paga Paolo infatti c'è un pezzo di aziende in Inghilterra not by chance la roba vera è quella che ha detto lui il calcolo tuo secondo me è pure ottimistico perché mi ricordo anni fa feci il calcolo di cosa sarebbe costato aprire se ne parlava un centro di ricerca o una scuola di business in Italia con le regole italiane pagando la gente stipendi mondiali del mercato mondiale che io mi costava due volte e mezzo tre il numero di avvitù era 60 35 a me veniva di più cioè che per riuscire appunto se in Italia se mi costava 100 in America mettere in tasca 60 qualcuno a quel livello lì perché sono persone che prendono stipendi netti superiori ai 10.000 al mese per riuscire a mettergli la stessa cifra in tasca in Italia dovevo spendere 250 i livelli lì la progressività diventava spaventosa spaventosa cioè quando vai nei livelli alti della ricerca farmaceutica e quindi hai persone che so Monsanto Lab Research Center che ce l'ho dove la gente ha un stipendio minimo di entrata è 120 c'è tantissima gente che prende 250 300 anche di più per pagarli così qua sei morto non ti passa neanche per l'anticamera del cervello perché il costo è e non hai strumenti sì e poi l'intero environment è tutto sbagliato non lo puoi mettere però anche ammesso che l'environment lo permettesse lì il problema vero per cui certo quelle aziende lì ovviamente in Italia cercheranno di tenere il meno personale possibile ma cosa dovrebbero fare? Suicidarsi avevamo detto che si chiudeva con ottimismo l'ultima domanda una cosa professore intanto che qua in Italia ci si concentra sempre sul cattivo sul presunto cattivo tedesco colpevoli di tutte delle 100.000 inefficienze italiane c'è un altro attore i francesi che si stanno accaparrando tutto il possibile e l'inimmaginabile nella moda come nella manifattura volevo una sua valutazione ma guardi visto che se noi comprano quello che possono Ferrero pure visto che se noi andiamo in Francia ci mandano il giorno dopo 2000 cacciobombardievi invadete la Francia cosa vuole che le dica? invadete la Francia dichiarate di guerra andiamo a Nizza li meniamo davvero io questi ragionamenti non ve li capisco chi ha soldi li spende chi voglia investire investe cosa gli si accaparrano c'è un italiano che vende c'è Ferrero si è comprato quello che voleva comprare la reciprocità non è politica vi dovete togliere sta follia non è politica se avete i soldi andate e comprate Marchione si è comprato la Chrysler oh fine cos'è sta roba? ha comprato l'azienda stradale si è comprato la Chrysler se adesso ce la fa se ne compra un altro pezzo se invece c'è qualcuno più bravo di lui si compra una FCA perché il mercato dell'industria mondiale dell'automobile è ancora troppo grande i rendimenti di scala manageriali di ricerca sono tali che è meglio avere imprese più grandi eccetera quindi Marchione che d'altro non è scemo questa roba l'ha capita l'ha detta dieci anni fa me lo ricordo quindi c'è guardate qua bisogna sparire un tot deve sparire quindi qualcuno comprerà qualcuno io ci provo se ho soldi vado bene compro gli altri se per caso arriva uno con più soldi di me vado ai miei azionisti compra me cioè io davvero non so c'è luxottica se è comprata a mezzo mondo capisce? cioè non è vero questa cosa poi l'altra cosa che io non riesco a capire io posso addirittura sforzarmi di capire se noi avessimo delle aziende con un particolare contenuto tecnologico segreto che garantiscono la sicurezza nazionale letteralmente in parte c'è negli Stati Uniti in parte c'è in Inghilterra legata all'inizio militare che per carità voglio costruirgli attorno uno scudo che mantenga un azionariato per lo meno patriottico di cui mi possa fidare d'accordo? però se uno compra la fabbrica di biscotti o di scarpe che differenza fa? investe quando compra la fabbrica di biscotti poi che lui la tenga ad Abbiate Grasso o che la muova a Saragossa dipenderà puramente dalle convenienze di produrre dati costi di sistema le tasse a Abbiate Grasso o a Saragossa e in questo siccome è un capitalista normale grazie a Dio si comporterà esattamente come il capitalista italiano perché io non credo che i capitalisti italiani tengono le fabbriche Abbiate Grasso per patriottismo le tengono fin tanto che produrre Abbiate Grasso fatti tutti i conti gli conviene quando non gli conviene più prendono e vanno in Romania dove è pieno di imprese italiane i romeni non è che hanno detto ma il sistema di guà vi siete comprati tutto e sono cottetti gli sono arrivati gli investimenti italiani e sono comprati le imprese italiane erano cottetti gli italiani erano più bravi c'erano più soldi erano più dinamici di loro hanno detto guarda che bello infatti il reddito meglio a Romania cresce anche grazie agli investimenti italiani scusate ma funziona così ma allora perché noi reagiamo così? per chiudere questo lo devo chiedere chi reagisce io no io non ho mai capito tutti reagiscono un po' così io mi ricordo che ci siamo divertiti questa è proprio una roba in cui ci siamo divertiti amati nel giro io ero un giovane economista del tempo c'era un periodo in cui in America era scoppiata l'ossessione io credo che in parte sono proprio cose razziste nel senso ma non cattive del termine anche io sono razzista cose istintive sì a metà anni 80 quando crescevo lì avevo appena preso il primo lavoro a Chicago c'era un periodo in cui i giapponesi erano il terrore americano vi ricordate? Bush è andato pure a vomitare lì sopra il primo ministro che stava male tutte queste storie un po' ridicole e c'era i giapponesi scemi siccome non avevano più di che comprare nel loro paese perché avevano mandato i prezzi real estate alle stelle si sono messi a comprare negli Stati Uniti e compravano dappertutto mezza downtown Los Angeles palazzi San Francisco New York e tutti ci stanno portando via real estate scusate ma cosa vuol dire portare via real estate cioè mica ve lo smontano l'empire state bill che se lo portano a Tokyo cioè vi stanno dando la valangha di soldi insensata perché non li vale e probabilmente quello che succederà e successe è che ve lo ricomprerete qualche americano se lo ricomprerà a metà prezzo fra otto anni cosa che regolarmente successe cioè è un dono cioè la gente non riesce a capire che è la stessa roba del debito cioè quando viene uno straniero e compra una roba tua fisica che è lì a un prezzo alto ti sta facendo un regalo perché non la può portare via cioè se uno si compra i vigneti inchianti è in Italo ecco tutti arrabbiati a me sti americani sembra scemi è una verità se io penso a come ha funzionato Italo alla concorrenza di tre in Italia la situazione sono i fratellini piccoli scemi di Babbo Natale perché ci ha messo io spero no saranno della gente bravissima avranno un'idea di cosa fare però questi sono comprati rotali non rotali insomma treni postazioni diritti in Italia non la possono portare da nessuna parte hanno investito soldi loro in Italia a uno magari gli sta antipatico come si chiama Montezemolo e quelli che erano che hanno fatto una manga di soldi su quell'operazione lì per cui quella è un'altra questione non mi voglio mettere però sulla questione investimento in Italia loro hanno messo soldi in Italia e tendenzialmente dovrebbe funzionare meglio speriamo adesso vediamo cosa fanno ma comunque hanno investito in Italia non capisco perché bisogna arrabbiarsi che sono americani io non lo capisco davvero non lo capisco qualcuno mi dovrebbe spiegare perché io non lo capisco Voi perfettamente hai ragione sai da dove però sorgono queste resistenze il fatto che in Francia e in Europa quando ci sono state le occasioni di tentativi di scalate di aziende italiane a grosse imprese o francesi o tedesche hanno messo dei muri politici io ricordo il caso Continental anni fa in cui Pirelli cercò di fare la scalata della Continental e ci fu praticamente un intervento del governo tedesco che bloccò la cosa cioè in Europa un po' questo atteggiamento c'è non è l'America non ti seguirò su questa strada non ti seguirò su questa strada non ti seguirò su questa strada perché è una questione di selection bias e di sample bias ok le misure di presenza l'Italia è guarda caso infatti un paese con una posizione molto forte di investimento all'estero quindi noi abbiamo una presenza non è vero continuare a selezione li abbiamo fatti anche noi all'Italia finiamo in una diatriba da francamente scompartimento del treno che non è il caso non è il caso perché all'esempio tuo c'è l'esempio mio finiamo a litigare in una maniera un po' sciocchiera per giustificare le resistenze italiane a questo tipo di accadimenti ecco tutto qui abbiamo preso una strada sbagliata andiamo all'altra parte la mia opinione è che il sistema di informazione italiana è tarato male e in realtà vende male come funziona il mercato mondiale da comprare in tali aziende non so cosa pensi Paolo che lo conosce meglio sì credo che noi ci focalizziamo un sacco su una su una concezione un 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 malcelato vittimismo per cui alla fine c'è sempre qualcuno che ce la vuole far pagare abbiamo di fatto un po' questa sensazione non so bene perché nemmeno io però siamo tendenzialmente sempre più proni a vedere che c'è qualcuno che ci vuole male e facciamo fatica a essere anche soltanto un minimo onesti con noi stessi non lo so mi sembra adesso stiamo andando un po' proprio veramente psicologia in Italia lascerei proprio l'ultimissima domanda perché abbiamo sforato una domanda di base io sento parlare di tasse e imposte scambiando i termini a seconda di come viene non mi sembra molto che questo contribuisca a far chiarezza voglio sapere il professore cosa ne pensa sì lo so anche io le uso tasse imposte gabelle si usa ormai in maniera in parte perché è l'abitudine anglosassone dove finiamo in discussione di scienza delle finanze se vuole lo facciamo perché si fa meno questa distinzione è una distinzione giuridica italiana un po' a mio avviso speciosa beh dipende sa perché sarebbe sostanziale se venisse rispettata le tasse no ecco vede lei ha già dato una tradizione diversa da quella del testo di diritto tributario di 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 quell'altro che leggevo l'altro di stevanato che leggevo l'altro giorno altri le attribuiscono la differenza fra funzionalità cioè pago la tassa per ricevere il servizio specifico verso l'imposta che invece è una ricarica o una estrazione diretta del reddito quindi sono svariate definizioni tutte di natura giuridica scarsamente funzionale che in Italia vengono abbondantemente usate che negli altri paesi sono quasi completamente sparite e quindi si finisce per mischiare le due cose se si rispettasse cioè se ci fosse per esempio che tutti i servizi pubblici che paghiamo in teoria attraverso tasse le tasse sono proporzionali e coprono il costo io credo sarebbe giusto insistere guardi che chiamiamo tassa quella cosa lì è imposta quella l'IRPEG o l'IRPEF siccome come lei sa meglio di me è sparita questa cosa perché non c'è nessuna proporzionalità fra la marca da bollo che le fanno mettere o quello che deve pagare per il servizio del comune e il costo del medesimo purtroppo è uno degli aspetti folli sono d'accordo però dovrebbe cominciare capisce il ministero delle finanze a ridisegnare la maniera in cui estraggono e a separare rigidamente ciò che il pagamento di un servizio è corrispettivo di un servizio da ciò che invece è estrazione generale di reddito per finanziare i servizi generali allora avrei una domanda riguardo al debito pubblico nel senso di come viene presentato nei media quindi mi riallaccio un po' a dei fili che sono stati tracciati quanto secondo lei penso da quello che ho letto di lei da quello che ho visto che forse siamo d'accordo quanto influisce la retorica europea sulla percezione che abbiamo noi del debito pubblico nel senso che se nei documenti tecnici della BCE della commissione in realtà questo allarmismo per il debito italiano non c'è il commissario di turno il tecnocrate europeo in realtà ci richiama sempre all'ordine venendo rimbalzato dai media che ingigantiscono magari il problema voglio sapere la sua opinione e quindi sul tema Europa anche un po' domanda larga la mia opinione qui vale meno di zero perché è buona come quella di chiunque perché non c'è niente di tecnico i commissari in Europa molto ci sono paesi che hanno una forte nervosismo con l'Italia viceversa d'altra parte lei deve mettere bisogna guardare che bisogna leggerli i giornali stranieri perché questa è un'abitudine che ho mantenuto anche i politici italiani parlano degli altri paesi cioè se io sono lasciamo stare i soliti tedeschi francese o olandese e i miei giornali grazie a io non lo fanno le mole non fanno ste cose riportasse tutti i giorni la quantità di insulti di affermazioni folli che il politico medio italiano fa sui cogini d'oltrealpe e c'è questi qua prendono la bandierina mandano la mariana e davvero attraversano la ventimiglia perché il tasso di insulto per lo straniero che viene dalla classe politica di questo paese non ha paragone nel resto d'Europa quindi è un giochetto ridicolo non c'è niente di tecnico in questo ovviamente che io sia economista potrei essere quello che vuole lei alpinista e direi le stesse cose non c'è un lei tecnico è così però credo che su questo noi non possiamo fare la predica a nessuno perché io quando vengo in Italia leggo delle cose no? poi si scusa ieri sulla Tunisia l'altro ieri si dicono delle cose adesso non citiamo le famose battute del quasi buonanima quindi capisce noi non andiamo quasi quasi non possiamo fare la lezione a nessuno certo questo non vuol dire che alcuni europei del nord non abbiano chiaramente un atteggiamento di forte aggressività con l'Italia non ho dubbio alcuno però la calmata secondo me dovrebbe essere generalizzata non c'è gli insulti violano mi sembra non vale prego negli ultimi mesi ha fatto un intervento sul turismo sul comparto abbastanza forte o quasi devastante però è anche vero che il 35% dell'e-commerce è imputabile servizio sul turismo il turismo è andato si è digitalizzato molto prima per esempio che la parte finanziaria ma che cos'è che le dà fastidio del modello turistico italiano e in che cosa dovrebbe cambiare sono tre domande diverse il mio intervento è molto specifico e non è nuovo l'ho scritto chiunque si occupi di teoria della crescita lo sa il turismo non è il petrolio di niente perché il turismo è un settore tecnologicamente per definizione arretrato che ha per quanto riguarda l'offerta turistica tra l'altro occhio dopo arriviamo alla digitalizzazione l'offerta turistica cioè hotel cioè dove la gente lavora hotel ristoranti guide trasporti della gente bagnini veda lei guide alpine biciclette da affittare insomma turismo ok è fatto in una certa maniera è della maniera semplicissima cioè il grande valore sta nel bene capitale o nella locazione che ce l'ha qualcuno uno ok l'80% il 90% della forza lavoro è di basso livello pulisce cessi piatti sotto i letti rifaletti di corsa e quello farà e l'unica maniera in cui potrà aumentare la sua proprietà è perché sparirà e verrà sotto di da un robot d'accordo? bene quindi quello è e quel tipo di redditi genera e i tassi di crescita della produttività nel settore sono per definizione storicamente ridicoli perché non c'è cioè uno c'è anche studiato passiamo il tempo si chiama Bommel Disease ci sono dei settori la produttività nel settore dell'opera non è mai cresciuta cioè il rapporto fra numero di ore lavoro e cantare turandò è invariante nell'universo capisce? non c'è maniera che Paolo può venire con tutte le sue macchinette se la scala vuole mettere su una turandò decente così la deve fare esattamente come la facevamo cent'anni fa quello è il costo lavoro lo stesso vale per pulire i cessi più o meno ok? magari adesso hanno uno scopino più veloce però quello è e quindi quello è il primo punto non c'è crescita capisci? è quello che ho detto io la cosa fondamentale è che siccome il paese ha bisogno di crescita la crescita dei redditi che ti dà il turismo è bassa ti dà una distribuzione del reddito punto numero due ineguale perché se tu sei il padrone di qui si sana hai una posizione di monopolio dopodiché chi occupi a qui si sana? chiunque capisci? cioè il proprietario di qui si sana ha assoluto monopolio il proprietario del cristallo a cortina ci hanno assoluto monopolio il lavorante che sta a far lo sguattro infatti tipicamente ormai neanche più italiano è un disgraziato che è disposto a lavorare 800 euro al mese perché è così quindi questo ho detto poi su come si fa in Italia è un discorso lungo questo lo ma è secondario la cosa che io insisto è che una continua perché? perché ha ragione lui perché il problema è vero bisogna shiftare il dibattito e l'attenzione della gente delle masse dal turismo a money farm ma non perché voglio fare pubblicità a money farm ma perché a tecnologia a innovazione a skills a persone preparate se noi continuiamo a raccontarci che andare a scuola non serve che studiare non serve che fare ingegneri non serve che provare a fare imprese non serve perché tanto noi ci abbiamo un sole qui si sana a cultura e facciamo abiz e quindi possiamo vivere tranquilli così perché questo ci raccontiamo alla grande noi saremo un paese che non cresce quella è la ragione per cui io me la prendo col turismo capisce non perché ce l'ho come io in Italia non mi fanno turista il milione di posti adoro a fare turista infatti vengo sempre qua però per quanto riguarda le strategie il dibattito nazionale sulla crescita dobbiamo assolutamente fare un sforzo tutti di spostare l'attenzione da lì se poi lo facciamo succederà che forse anche il nostro settore turistico che francamente lascia desiderare perché l'Italia è uno di quei paesi adesso mi fermo quindi chiudiamo con una proposta abbiamo chiuso con ottimismo diciamo il prossimo appuntamento in redazione finanza il 2 luglio con Tommaso Nannicini che è l'ex consigliere economico di Matteo Renzi e niente grazie a tutti grazie a Manifarm grazie al professore Boldrina e grazie a Clebhausbrella che ci ha ospitato grazie grazie a tutti